Come acquistare un'auto all'asta? Anche se in tanti altri video su questo canale siamo andati in giro per il deposito, abbiamo toccato l'argomento da varie prospettive, non abbiamo mai approfondito il processo di acquisto, cosa che invece mi è stata richiesta da molti, ed è proprio quello che faremo in questo video. Noi esamineremo tutto il processo fino ad arrivare a fare addirittura un'offerta. E tra l'altro, mentre stiamo realizzando questo video, c'è una Ferrari con una base d'asta di 2.500 euro. La procedura di acquisto è relativamente semplice, ma ho deciso comunque di esaminarla insieme a voi, anche per dare una mano magari a chi non ha tanta familiarità con l'inglese. E alla fine di questo video vedremo anche le domande più comuni che sono prese proprio dal sito di Emirates Auction, sempre perché così possiamo analizzarle in italiano, ma anche perché poi magari possiamo commentare qualche spunto. Quindi mi raccomando, guardate il video fino alla fine. Se questo genere di video vi interessa e volete magari esaminare il processo di acquisto anche per gli altri siti d'asta, scrivetemelo nei commenti. E come di consueto, ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. E se invece questo video non vi è piaciuto, scrivetemi comunque un commento, perché mi aiuterà ad aumentare la qualità di questo canale. Andando sul sito di Emirates Auction, si può tranquillamente vedere quali sono le auto in questo momento all'asta. Con le offerte, il numero di offerte, la scadenza dell'asta, l'attuale richiesta per quel tipo di auto. Ma per poter fare un'offerta è necessario essere accreditati con Emirates Auction. Un primo passaggio richiede una registrazione, quindi andrò a inserire i miei dati, la mia mail e il mio numero di telefono, dopodiché arriverà un codice di attivazione che dovrò andare a inserire. A quel punto io sono abilitato su Emirates Auction. Essere abilitato, essere registrato però, non vuol dire poter fare un'offerta. Per poter fare un'offerta devo lasciare un deposito cauzionale. Questo deposito cauzionale può essere lasciato tramite assegno, carta di credito, bonifico bancario. Esaminiamo queste tre possibilità. L'assegno ovviamente richiede la mia presenza fisica negli Emirati Arabi e non solo, l'assegno deve essere emesso da una banca locale. Quindi io vado fisicamente presso l'ufficio di Emirates Auction, lascio l'assegno, loro verificheranno che ci sono i fondi, incasseranno l'assegno, dopodiché io sarò libero di fare delle offerte. L'offerta massima in questo caso sarà pari all'importo dell'assegno. Quindi se io ho lasciato un assegno di 10.000 dirham, potrò fare offerte massimo di 10.000 dirham. Nel caso del bonifico bancario invece posso fare tutto online. Nel momento in cui faccio il bonifico, ovviamente ci sarà un minimo di tempo tecnico affinché loro possano vedere l'accredito sul conto, quando arriva l'accredito io posso fare le offerte. Nel caso del bonifico bancario, c'è la possibilità di fare offerte fino a 5 volte il valore dell'importo depositato. Quindi se io ho fatto un bonifico di 10.000 dirham, questa volta potrò fare offerte fino ad un massimo di 50.000 dirham. Terza opzione invece è quella della carta di credito. Stesso principio del bonifico bancario, quindi se io faccio un pagamento di 10.000 dirham con la carta di credito, potrò fare offerte fino ad un massimo di 50.000 dirham, ma con il vantaggio che l'accredito è immediato. Quindi nel momento in cui ho fatto, come vedremo, il deposito, io immediatamente posso iniziare a partecipare alle mie aste. Io per fare la mia registrazione ho utilizzato una carta di credito emessa localmente. In realtà non so se funzionano anche carte di credito emesse da istituti bancari e anche di altre nazioni, pur essendo circuito Visa o Mastercard, a volte ci sono delle limitazioni. Però credo proprio di sì dal momento che le aste sono aperte a persone di tutto il mondo. Accreditato il deposito, cosa che possiamo controllare dal nostro profilo, possiamo metterci in gioco e iniziare a fare offerte. Una volta che quindi mi sono registrato, posso tranquillamente inserendo il mio username e la password accedere al mio profilo. Questo però non vuol dire ancora poter fare delle offerte, non sono ancora libero di fare delle offerte. Vado quindi sulla sezione deposito e posso scegliere come fare il mio deposito cauzionale. Io in particolare ho scelto di farlo tramite carta di credito, in modo tale da poter essere subito abilitato a fare delle offerte. Vedete che facendo un deposito di 3.000 dirham, nel mio caso, io poi potrò fare offerte fino a 15.000 dirham, quindi 5 volte l'importo. Vedete che appena fatto il pagamento io posso vedere il deposito e di conseguenza posso fare subito delle offerte. Nel pannello posso vedere anche le auto che mi sono aggiudicate, quelle che sono in corso di asta e posso anche inserire delle aste che mi interessano in una sorta di playlist auto in evidenza. Ovviamente avrò anche il mio storico, quindi le auto che mi sono aggiudicate. Adesso andiamo a fare, ad esempio, una possibile offerta. Vedete che ci sono in questo momento due Ferrari, di cui una Ferrari 360 Modena del 2000, a poco più di 2.500 euro. vedete che ho qui le varie informazioni principali. È un'auto di 70.000 km. Ovviamente la schermata è abbastanza intuitiva, quindi fa vedere le principali informazioni dell'auto, i chilometri, se ci sono le chiavi, se ci sono i documenti, e così via. Andando a scaricare l'inspection report, vedete che ci sono svariate cose che non vanno, tra cui perdite d'olio, svariati problemi alla trasmissione, le ruote devono essere cambiate. Anche perché qui negli Emirati Arabi, per potersi intestare un'auto con targa locale, devi prima passare a una sorta di collaudo, quindi è importante sapere a che cosa si va incontro. Quindi fate sempre molta attenzione. Ecco, io qui posso andare a fare la mia offerta per aggiudicarmi la Ferrari. Con 11.600 dirham, il minimo incremento in questo caso è di 100 dirham per volta. Qui possiamo vedere tantissime altre auto, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Passiamo quindi alle domande più comuni. Il tempo della scadenza dell'asta può essere esteso? Sì, può essere esteso nel momento in cui c'è un'offerta poco prima dello scadere, quindi dà la possibilità anche agli altri partecipanti all'asta di fare delle offerte. Quindi nel momento in cui la mia scadenza è il 1 agosto a mezzanotte, ma il 31 luglio alle 11.59 c'è una nuova offerta, la scadenza dell'asta può essere prorogata. C'è una fee per partecipare? No, la partecipazione è gratuita, ma ovviamente è necessario, come abbiamo visto prima, mettere un deposito cauzionale. Quanto è il deposito cauzionale? Il deposito cauzionale sarà pari al 20% della offerta massima che noi vogliamo poter andare a fare nel caso di carta di credito o di assegno. Quindi non c'è un minimo, però dobbiamo sapere che potremo fare offerte solo pari al massimo a 5 volte quello che è stato il deposito che abbiamo messo. Come posso ispezionare le auto a cui voglio partecipare? C'è la facility di Emirates Auction, mettiamo qui in Google Map la location precisa, e quindi io posso andare lì e esaminare l'auto che mi interessa, posso eventualmente anche chiedere le chiavi, provare a metterle in moto, se va in moto l'auto, e quindi fare le mie valutazioni dal vivo. Come posso chiedere il rimborso del mio security deposit? Nel caso in cui io non voglio più partecipare alle auto, si può fare una richiesta tramite il sito o la app, oppure mandando una mail che è qui specificata. Posso fare offerte da fuori il paese? Sì, quindi ecco anche persone che sono fuori dal paese possono tranquillamente fare offerte. Come posso pagare l'auto una volta che ho vinto? E' sufficiente fare un bonifico a queste coordinate bancarie che sono qui specificate. Ecco, qui molto interessante. Emirates Auction fornisce un servizio di export? Sì, fornisce un servizio di export, ma solo per i paesi GSC, quindi del Middle East, Arabia Saudita, Bahrain, Yemen, Oman, Qatar, anche se in realtà adesso in Qatar ce l'embarco, quindi bisognerebbe vedere. Quindi solo per i paesi del GSC. Quanto costa spedire l'auto? Ovviamente questo varia da paese a paese, qua parlano di una stima di 1.500 dirham da Riyadh, Arabia Saudita, a Kuwait. Quindi siamo nell'ordine del centinaio di euro, però ecco, è solo un trasporto locale. Non fanno, a differenza di Copart, trasporti internazionali. Cosa fare se non ricevo il mio activation code? Mando una mail. Se ho dimenticato username o password, anche lì c'è ovviamente il sistema di recupero, oppure posso provare a contattarli. Ad esempio, io non riuscivo ad accedere al sito, il link forgot password non funzionava, ho scritto in chat e dopo pochi istanti mi hanno mandato sul cellulare il username e password. Cosa vuol dire che l'auto è venduta as is? Così com'è. Vuol dire che l'auto te la prendi senza nessun tipo di garanzia, così com'è. Cioè loro ti dicono, guarda, noi abbiamo ispezionato e ci risultano questi danni, ma se poi la batteria non funziona e non è scritto qui, è un problema tuo. Cioè nel senso che noi abbiamo fatto un'ispezione di massima, ma non siamo responsabili per nessun altro tipo di problema che possa venire fuori. Quando un'asta può essere estesa, l'It's Auction si riserva il diritto di estendere l'asta per problemi tecnici, ad esempio. Posso aumentare il mio massimo di offerta? Sì, basta integrare il mio security deposit. Quindi se io ho 3.000 dirham di security deposit, voglio fare offerte fino a 20.000 dirham, 25.000 dirham, dovrò mettere altri 1.000 dirham o 2.000 dirham rispettivamente. Cosa posso fare dopo aver pagato il security deposit per poter iniziare a fare offerte? Niente, come abbiamo visto, facendo il pagamento tramite carta di credito è istantaneo. Tramite bonifico bisognerà aspettare che loro ricevano i fondi. Nel caso in cui ci siano problemi c'è una mail di riferimento. Posso richiedere indietro il mio security deposit? Assolutamente sì, tramite carta lo riaccreditano sulla carta oppure tramite bank transfer ti rifaranno un bonifico alle coordinate che tu gli darai. Posso utilizzare il mio security deposit come anticipo sul pagamento dell'auto? Sì, ma solo se il security deposit è stato fatto tramite bonifico bancario. Qui tra l'altro fa una differenza tra bank transfer e bank deposit. Bank transfer sarebbe il bonifico bancario. Bank deposit se io tipo sono andato al bancomat e ho depositato del cash direttamente sul loro conto. Questa è un po' la differenza. Qui negli Emirati Arabi hai la possibilità di fare un deposito anche tramite il bancomat sul conto di un'altra persona. C'è garanzia per le auto vendute da Emirates Auction? Assolutamente no. Come dicevamo, le auto te le prendi as is. Posso cancellare la mia offerta? No, non è possibile cancellare offerte. Come posso fare a sapere quali auto mi sono aggiudicato? Nella sezione One, quindi auto vinte, dalla sezione My Account. Posso registrare l'auto sotto un qualsiasi nome? No, le auto vanno registrate a nome della persona che si è aggiudicata l'asta. Quindi non posso aggiudicarmi l'asta e poi intestare l'auto a una terza persona. Cosa vuol dire una stella sotto la descrizione dei dettagli? Vuol dire che ci sono o dei nuovi dati su quest'auto, quindi è stata aggiornata la descrizione, oppure che è un'auto nuova che è appena stata aggiunta. Una volta che mi sono aggiudicato l'auto, quanto tempo ho per effettuare il pagamento? Inoltre, la data di pagamento è specificata nello Statement of Purchase, che chi si è aggiudicato l'asta riceve automaticamente dopo la conclusione dell'asta stessa. Posso esportare le auto fuori dal paese? Sì, come dicevamo Emirates Auction offre un servizio di preparazione di documenti per l'Expo e dopodiché possono anche occuparsi loro dell'esportazione se è nei paesi del GCC, altrimenti fuori dal GCC ognuno deve preoccuparsi di far arrivare l'auto. Come posso partecipare ad un'asta? Tutto questo video si incentra su questo argomento. Che cosa vuol dire Conditional On Provider Approval? Vuol dire che il fornitore dell'auto, colui che ha messo l'auto all'asta, quindi il proprietario fondamentalmente, si riserva il diritto di non accettare l'offerta. Quindi se non raggiunge un minimo che stabilisce lui, può decidere di non dare l'auto. Ad esempio, la Ferrari a 2.500 euro, se lui pensa di voler portarsi a casa almeno 10.000 euro e l'offerta massima non raggiunge i 10.000 euro, lui può decidere di non dare l'auto a chi ha fatto l'offerta più alta. A quel punto o si fa una trattativa privata tra le parti, oppure l'auto può essere rimessa all'asta magari successivamente. Tutte le auto all'asta sono libere da incidenti e problemi? Assolutamente no. Come dicevamo, è importante considerare che cosa si sta andando ad acquistare. Quanto tempo ci vuole per ricevere i documenti dell'auto dopo aver fatto il pagamento? All'incirca 10 giorni lavorativi. Quali sono gli orari di ufficio di Emirates Auction dal sabato al giovedì, dalle 9 di mattina alle 6 del pomeriggio? Posso fare offerte con lo stesso account sia per le auto sia per le targhe, perché qui a Dubai si vendono anche le targhe delle auto, perché sono un po' uno stato simbolo avere delle targhe particolari. Sì, puoi partecipare anche alle targhe delle auto, ma le targhe di Abu Dhabi possono richiedere un deposito cauzionale a parte, perché ogni Emirato comunque può avere delle legislazioni diverse. Quando posso sapere quando i documenti dell'auto sono pronti? Controlli sul tuo account fondamentalmente nella sezione Auto Vinte 1. Posso pagare il security deposito con credit card? Sì, l'abbiamo visto. Emirates Auction può registrare l'auto per me? No, Emirates Auction ti fornisce i documenti necessari o per l'esportazione o per la registrazione in loco, qualora tu voglia circolare in loco, ma non fanno da agenzia. Quanto tempo ci vuole per ricevere i documenti nel caso in cui i documenti siano stati venduti tramite il tribunale? Dalle 2 alle 12 settimane. Quindi attenzione quando vedete che delle auto sono state vendute, messe all'asta dopo essere state confiscate dal tribunale, vedete che i tempi sono molto più lunghi, quindi fate attenzione anche a questo. Ci sono delle fee addizionali? C'è una fee, una spesa amministrativa di 300 dirham per i veicoli sotto i 2000 dirham e di 500 dirham per i veicoli che hanno un valore sopra i 2000 dirham. Ci sono servizi di finanziamento? No. Cosa succede se io non pago per il veicolo che mi sono giudicato? Il tuo deposito cauzionale viene confiscato e il proprietario del veicolo può fare azione legale. Quando posso ritirare l'auto che ho vinto hai 3 giorni di tempo per ritirare il veicolo dalla loro facility oppure 2 giorni di tempo per richiedere l'esportazione e per ogni giorno, diciamo, di ritardo ci sono 300 dirham, circa 80 euro di multa. Inless Auction fornisce un servizio di assicurazione e di registrazione? No, non fanno d'agenzia come dicevamo prima. Questo ripete la domanda di prima. Cars of the ASEP. Come posso fare a sapere le condizioni dell'auto? C'è un inspection report e poi posso visitare l'auto direttamente alle loro facility come abbiamo visto prima. Posso fare offerta su più di un'auto? Sì, in accordo col tuo limite di offerta, che dipende, come abbiamo visto, dal deposito cauzionale. Possono partecipare altre nazionalità? Sì. Ogni tanto si ripetono le domande che abbiamo fatto prima. Qua ci sono le coordinate bancarie sia per il security deposit che per il pagamento e vedete ci sono degli account diversi. Quindi c'è un account per fare il security deposit, un altro per fare i pagamenti delle auto. Cosa vuol dire Watch Cars? Watch Cars è la lista delle auto che tu praticamente vuoi tenere sott'occhio. È una sorta di short list. Come posso fare a sapere la fine dell'asta? È specificato praticamente se c'è un'auto, è molto evidente. Qual è il tempo limite per pagare le auto che ti si è giudicato? Abbiamo detto che hai 48 ore di tempo per effettuare il pagamento e poi chiedere o l'esportazione o andare a ritirare l'auto. Insieme all'auto, nel caso in cui l'auto sia targata, ricevo anche la targa? No, riceverò solo l'auto. La targa rimane al proprietario, comunque non viene venduta insieme all'auto perché qui la registrazione praticamente la fai direttamente presso la motorizzazione e riceverai a quel punto la tua targa. Posso inviare qualcuno a ritirare l'auto al posto mio? Sì, ma ci deve essere una delega fatta quindi da un notaio, da un tribunale. E poi vedete, c'è un form per poter inserire altre domande. E se ci sono domande a cui non abbiamo risposto, scrivetemelo nei commenti. E adesso, fatemi sapere che auto siete riusciti ad aggiudicarvi e anzi, se avete realmente acquistato un'auto su Emirates Auction, scrivetemi nei commenti la vostra esperienza perché aiuterà ad arricchire il contenuto di questo video. Maasalama!